Ciao ragazzi, eccoci qua a qualche giorno di distanza dallo short track di Xterra organizzato in Italia a Molveno. Per la prima volta questo formato spettacolare è stato organizzato e ospitato appunto qua in Italia. Una grande prestazione, finalmente, una grande soddisfazione essere riconfermato al top a livello mondiale. Sicuramente parte di questo merito è anche di Volken che mi segue e mi sostiene con i suoi prodotti dall'inizio dell'anno, quindi durante tutta la preparazione, durante gli allenamenti e durante la gara. Infatti integrazione del giorno gara che prevede somatron e aminotull prima di colazione, 4 aminoacidi volamin 1 ore 40 prima della partenza e idratazione durante la gara con isodrink. Questa gara era particolarmente corta quindi non c'è stato bisogno di integrare con delle barrette dal punto di vista energetico che invece vengono molto comode per le gare più lunghe e per gli allenamenti dove abbiamo necessità di introdurre un pochino di energia. Quindi grazie ancora ragazzi e alla prossima!